Il mercoledì, sì, 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 via, pa, 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 sì, pa, pa, il giovedì, la voglia tutta calma. Oh, sì, la mettiamo in questo, per cui manteniamo questo prima, perché poi dopo abbiamo visto che possiamo fare qualche gioco, eh? Pronti, aspetta, aspetta. Di giocare mi son stancato, voglio pane e cioccolato, un gelato con la panna, e lo mangio con la panna. Dopo un giro in bicicletta, mangerò una botoletta, caramelle che passione, noi cantiamo una canzone. Anche un pezzo di pizzetta, mi riempie la pancetta, colazione con biscotti, di cui tutti siamo viotti. Paratine, coca cola, e domani andiamo a scuola. Paratine, coca cola, e domani andiamo a scuola.